AIS Piemonte, oltre 2000 soci, siete fra gli organizzatori di questa manifestazione ormai da 15 anni che sta diventando un punto di riferimento prestigioso per i Piemonte e per i vini piemontesi. In questi 15 anni com'è cambiata? Moltissimo, siamo partiti promozionando un'annata sfortunata che era quella del 1994, annata molto piovosa, difficile e quindi abbiamo deciso di organizzare questo evento per in qualche modo portare avanti, aiutare questa vendemmia di Barol 1994 che era difficile da promuovere. Poi la cosa che ha avuto grande successo, all'epoca facevamo questa manifestazione a Villa Sassi e poi è diventata sempre più grande, Villa Sassi cominciata ad essere stretta, siamo immigrati a Stupinigi e oggi sono due anni che organizziamo questa cosa qui alla Reggio di Veneria. Quindi una manifestazione che oggi vede circa un migliaio di visitatori, cento eventi le aziende, i produttori che appunto presentano in anteprima la nuova annata e quindi è un evento sempre molto importante che raccoglie appassionati che provengono da tutta Italia. Vaira Baudana è un'azienda proprio nel territorio di Barolo dal 1972, un'attività che lei porta avanti con il suo marito. Sì, dobbiamo distinguere, è nata come Aldo Vaira, come azienda agricola G.D. Vaira dal 1972, voglio sottolineare che il 1972 erano ancora gli anni non facili, per cui penso di poter dire che è stato un eroico mio marito a ritornare da Torino, dove era studente, a ritornare all'azienda del nonno. Nel 2008 si è inserito questo bellissimo progetto con Luigi Baudana, Luigi Baudana è un'azienda che a sera lunga può contare su 5 ettari di ottimi vigneti e che si interrogava sul futuro dell'azienda. Noi abbiamo dei figli che hanno per la nostra gioia deciso di continuare con noi, quindi c'è spazio per tutti e in questo modo riusciamo a produrre le due anime del Barolo. A Barolo il Barolo del Tortoniano e a sera lunga il Barolo dell'Elveziano. Sommelier dell'azienda Batasiolo, che cos'ha di particolare questo Barolo 2008? Allora noi qui oggi siamo con due Baroli del 2008, uno che ancora non è in commercio, che è il Corto della Bricolina, il nostro Barolo se vogliamo di punta, piccolo vigneto in zona di sera lunga che ci dà 9.000 bottiglie all'anno. Come produttore questi Baroli danno soddisfazione? Molte soddisfazioni, diciamo che sia in Italia che all'estero ci stanno dando veramente grandi soddisfazioni, anche perché il Barolo è un'eccellenza in tutto il mondo e si sta confermando veramente in mercati nuovi come possono essere sia l'Asia che il Brasile o mercati più fermati come possono essere Stati Uniti, Canada e naturalmente Italia che è comunque la nostra patria. Stiamo vedendo i risultati, però più nessuno si ricorda come è stato effettivamente il 2008. Un'annata che ha dato un Barolo di ottimo qualità, ma com'era esattamente? L'annata del decennio si distingue per essere un'ottima annata, direi un'annata piacevole, un'annata che si beve già bene ma che ha dei presupposti per un progressivo miglioramento nell'invecchiamento. Quindi possiamo dire che il 2008 per il Barolo e il 2009 per il Barbaresco che vengono presentati quest'oggi qui alla Venaria Reale sono due grandi annate per questi nostri due grandi vini piemontesi. Giovanni Grasso della Credenza San Maurizio Canavese, come mai qua a Barolo e Barbaresco per controllare, vedere e scegliere i prodotti per il proprio ristorante? Beh, ovviamente questo è un'opportunità di assaggiare in contemporanea più di 110 aziende insieme, di capire come va l'annata 2008-2007 e ci permette a noi di confrontarci con colleghi produttori e poi il Barolo e Barbaresco sono l'eccellenza del Piemonte e quindi bisogna esserci. Iole della Piana, azienda Rizzi a Treiso, voi siete specializzati in Barbaresco, ma intanto perché il nome Rizzi? Allora, l'azienda Rizzi si chiama così perché è il nome della cascina dove noi abbiamo la nostra azienda e del nome del cru all'interno del quale la nostra azienda è posizionata. Per cui Rizzi è il nome geografico in realtà del luogo dove noi abbiamo l'azienda e per cui ci chiamiamone come la collina dove noi abitiamo. Qua presentate soltanto il Barbaresco, come mai? Perché il nostro vino di punta ha Treiso uno dei tre comuni del Barbaresco per cui all'interno del quale noi abbiamo il Barbaresco come vino più importante. Abbiamo anche un'altra gamma di vini, dallo Chardonnay al dolcetto Barbera, Moscato, però il Barbaresco è il nostro prodotto più importante.